Allo stadio Gaetano Bonolis, località Piano Daccio, in Teramo si affrontano la seconda, il San Nicolò e la terza, l'Alma Juventus Fano. Alla ricerca di un sogno, la ricerca dell'aggancio alla capolista Samba impegnata nella gara interna alla riviera con il Giulianova. Buon pomeriggio, buon pomeriggio da Sergio Catalani, Donatangelo che viene via a Marconi, c'è il San Nicolò che si distende, il gol. C'è il gol del San Nicolò che va in vantaggio con la stoccata al sesto minuto. Mozzoni verso Casolla che mette nel mezzo, c'è Margherita, attenzione c'è il gol ancora, San Nicolò che va sul 2-0 con Massetti. Marconi in vantaggio e allontana ma è ancora il San Nicolò, attenzione a Merlonghi, il colpo di testa e ancora gol, sono tre. E sono tre, non ci è sembrato proprio immune, intanto attenzione a rigore per il San Nicolò, la spinta netta, ci è sembrata di Mei, vediamo il destro di Margherita, il tiro, il gol, spiazzato Ginestro, tiro imparabile, 4-0 per il San Nicolò. Vediamo chiacchiarelli al limite, c'è il tiro, il gol del Fano con Gucci. A buon mercato, riparte la formazione locale, il brutto fallo di Nodari, vediamoci dovrebbe essere l'ammunizione, no, il rosso diretto per Nodari. Marconi che concede la palla a Mozzoni, che mette in moto la lunghe leve, Mazzoni, Mozzoni, Mozzoni, il tiro è ancora gol, grande gol di Mozzoni, azione personale e tutta la panchina che va ad esultare. Ultima azione, Margherita prova a segnare il sesto gol, vediamo Margherita, il tiro alla barriera, ci mette una pezza, basta così, dice il mediocre Gualtieri di Astri. Finisce con una manita, 5-1 per il San Nicolò.